In tutti e due i mondi, ogni cosa è causa ed effetto. Ogni dolore che proviamo ci spinge ad agire, forma la nostra volontà. Nel mondo di origine, Tannhaus ha perso tutto ciò che abbia mai significato qualcosa per lui. Suo figlio, sua nuora e sua nipote morirono in un incidente d'auto. Vennero spinti giù da un ponte e annegarono in un fiume. Non è mai riuscito a lasciare andare la sua sofferenza. Jonas e Martha devono cancellare quel dolore. Così che non cerchi mai un modo di invertire il tempo. Devono andare nel mondo di origine e impedire che i nostri vengano creati.